Musica La interrogazione di valori inseriti è una cosa particolarmente divertente per esempio se si elimina il postulato delle parallele dall'azione di autlinea si ottiene un sistema imperfetto nel senso felici sono con l'erba L'argomizzazione è un sistema normale non vuol dire quasi niente per la gente E poi si scrive nel predicato per giustificare la filosofia europea che ottiene un lavoro regolare nel senso felici sono con l'erba Stasso e carità 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 Stasso e carità